La next gen ha portato con sé delle console molto ambite, come PS5, soprattutto nel caso dell'Italia, altrettanto introvabile purtroppo al momento, ma effettivamente non ha portato con sé poi chissà quanti giochi. Nel senso che non ci sono poi così tante esclusive PS5, secondo molti, e io un po' sono d'accordo devo dire, tali da giustificare il volere la console a tutti i costi. È comunque richiestissima, però di fatto non è che non avere la console vi sta limitando più di tanto, effettivamente, perché, boh, di titoli grossi? C'è Demon's Souls Remake? E che cos'altro? Tutto sommato non poi così tanto, giusto? Bene, effettivamente però, nell'ultimo CES c'è stata qualche news in più sui titoli di nuova uscita, e alcuni di questi ve li dico molto volentieri perché li sto attendendo molto anch'io. Quindi, PS5, ecco quando escono Project Athea, Keen, Ghostwire, rinviato per Agmata, e vuota il sacco a sorpresa Sony con un trailer dal CES 2021. È una finestra di lancio, ragazzi, non sono delle date precise, d'accordo? E non sono stati menzionati, attenzione, nella lista presentata alla fine della clip, prodotti attesi abbastanza breve come Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok. Di quest'ultimo, ragazzi, io ci metto la mano sul fuoco, che non uscirà quest'anno, come detto inizialmente. Però, per esempio, Horizon Forbidden West, Returnal, Ratchet & Clank, Rift Apart. Beh, ecco qua. 2021 generico per Ratchet & Clank, Horizon Forbidden West, anche questo 2021 generico, Returnal, confermata, questa data è del 19 marzo 2021, Pragmata rimandata al 2023, però, Solar Ash, giugno 2021, Kina, lo aspetto tantissimo, ragazzi, marzo 2021, e sono troppo contento di questa data. Poi, Stray, altro titolo che tengo molto sott'occhio, ottobre 2021, purtroppo avrei voluto giocarlo prima, però, per carità, attendiamo lo stesso. Ghostwire Tokyo, titolo che mi lascia molto perplesso, vedremo di più, nell'ottobre 2021. Little Devil Inside, sembrerebbe un progetto carino, luglio 2021. Project Avia, gennaio 2022, quindi questo slitta un pochettino. E poi Hitman 3, gennaio 2021. Quindi, ragazzi, abbiamo ora qualche data in più. Ora, sono dei titoli super rilevanti, tanto da dire, ok, c'è della roba fortissima? Ma, nonostante questo, mi viene da dire di no. Non da dire che, porca miseria, assolutamente bisogna avere PS5 perché ci sono queste esclusive mastodontiche che proprio uno dice attirano, insomma, proprio quelle mainstream, d'accordo? Come potrebbe essere un God of War Ragnarok, che, ripeto, ragazzi, ci metto la mano sul fuoco, che non uscirà quest'anno. Felice di essere smentito, eh, però, secondo me, no. A meno che non si tratti di una sorta di, eh, boh, DLC barra spin-off, tipo Spider-Man Miles Morales, per capirci. Ecco, se è così, magari sì. Però, ma, se è un titolo nuovo, proprio full, eh, ne dubito fortemente. Comunque, io vi ho detto un sacco di titoli che sono un pochettino meno prominenti. Lo stesso Ratchet & Clank, che è un titolo abbastanza iconico di PlayStation, ma non è uno di quei titoli che proprio spacca il mercato, stile God of War, stile Horizon, The Last of Us, capito? Questo genere di cose. Quindi, tutto sommato, siamo ancora un pochettino ridotti come titoli. Però, però, vorrei cogliere l'occasione di questo video per dire anche una piccola cosettina che esula un pochettino dalla semplice news delle nuove uscite. Ovvero, quando vedete una lista del genere, molti potrebbero dire, vabbè, non c'è niente. In realtà, anche se ho detto io stesso che non ci sono titoli proprio super rilevanti, non è vero che non c'è niente. Tra questa lista qui, ci sono dei titoli che sono veramente carucci, almeno sembrerebbe. Ne dobbiamo sapere di più. A parte Ratchet & Clank, che è un pochettino, diciamo, stabilizzato, io aspetto tantissimo Kina, perché sembrerebbe essere una specie di film d'animazione videogioco. È una cosa che io desidero da anni, tantissimo. Quindi, ponete un pochettino l'accento anche su uscite un pochettino più piccole, perché non è raro che possano darvi delle soddisfazioni persino maggiori di titoli mega giganti e magari costarvi anche di meno. Di solito sono esperienze un pochettino più brevi, un pochettino più coincise, però non è detto che non debbano soddisfarvi, d'accordo? Quindi, nel dirvi questa lista, ovviamente, ho voluto anche dare un pochettino questo messaggio, sottolinearvi un po' di titoli che aspetto io stesso. E quindi, ragazzi, qui sotto nei commenti fatemi sapere che ne pensate di questa lista, che cosa aspettate veramente in questo 2021 e che cosa per voi giustificherebbe l'acquisto di PS5? Assolutamente. Cioè, ok, magari la volete lo stesso perché è una console di nuova generazione che comunque ha un sacco di miglioramenti, però se doveste basarvi sui giochi, cioè io compro PS5 perché c'è questo sopra, che cosa vi convincerebbe proprio? Da che cosa ci dovrebbe essere? Perché tanto sappiamo che Sony bada molto alle esclusive, no? Quindi è questo il punto di forza. Dato che il punto di forza, vi sto parlando di questo nello specifico. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. D'accordo, ragazzi? Bene, era tutto per questo video. Grazie mille per averlo visto. Noi ci vediamo al prossimo. E come sempre, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale. Seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. E qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social e community, come Instagram, Telegram, tutti i link per supportare il canale, e anche il link alla playlist con tutti i video delle mini-news. D'accordo, ragazzi? A presto.